ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale nuovo progetto perlinoso in collaborazione con il sito semplici bijoux qui davanti vedete il kit già dalla grafica potete intuire che anche questa volta andremo in un meraviglioso arcipelago ebbene sì dopo l'arcipelago delle canarie con il bracciale canarian questa volta andremo alle seychelles con il bracciale seychelles appunto qui davanti vedete la versione ma è ci saranno disponibili cinque kit come di consueto che troverete appunto sul sito semplici bijoux vi lascerò ovviamente di ogni kit qui sotto il link poi vi lascerò anche le slide con tutti gli abbinamenti di tutti quanti i modelli e ora vi mostro il contenuto della bustina dopodiché vi mostrerò il progetto kit bracciale seychelles modello ma è quindi qui davanti vedete la bustina ora vi mostro i materiali che sono i materiali che utilizzeremo per realizzare insieme il tutorial che troverete qui sul canale fra qualche giorno inizio subito col mostrarvi i protagonisti di questo progetto ovvero loro gli esagoni in cristallo sono esagoni in cristallo mocha la misura da 10 mm la colorazione è la sapphire b guardate che spettacolo sono sei pezzi per realizzare fino a sei modulini poi vedremo appunto nel tutorial in base al vostro polso quindi gli esagoni fantastici gli esagoni veramente mi sono voluta mettere in gioco con qualcosa di insolito abbiamo poi le rocaille della miuki in due colorazioni rocaille 11 0 questa che è la colorazione metallic light bronze 10 grammi appunto abbiamo poi la seconda colorazione sempre di rocaille 11 0 miuki la colorazione dura core galvanized capri blu guardate che è meraviglia di colore procediamo con le nibbit bit la colorazione tweedy blu 10 grammi abbiamo poi i bicono della preziosa da 3 mm la colorazione sapphire b 50 pezzi e per finire la minuteria ovvero gli anellini e la chiusura del nostro bracciale anellini questa bellissima chiusura a cuore bene come di consueto potete già vedere da questi abbinamenti che si fa sempre degli abbinamenti spettacolari per i progetti vi lascerò come vi dicevo in coda a tutti quanti gli abbinamenti quindi tutti e cinque gli abbinamenti disponibili nei kit ora invece vi mostro il progetto rieccomi con il bracciale ora ve lo mostro subito eccolo qua il bracciale 6 shell guardate che meraviglia mi piace veramente tantissimo qua l'ho realizzato con sei modulini ma a seconda dei posi sarete liberissime di realizzarlo anche con cinque modulini nel particolare questo è il modello del kit ma è i materiali ve li ho fatti vedere in apertura ora ovviamente vi lascerò in coda a questo video gli abbinamenti tutti e cinque gli abbinamenti che rené ha creato per noi per questo fantastico kit quindi io veramente spero di cuore che il progetto vi piaccia vi lascerò come vi dicevo i link e tutti quanti qui sotto nell'info box io ringrazio il sito semplici bijou per questa meravigliosa collaborazione come sempre è veramente una gioia per me quindi io vi ringrazio per aver visionato questo video in coda a tutti gli abbinamenti e noi ci vediamo prestissimo con i tutorial ciao 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 ciao